Buongiorno a tutti, oggi vi faccio vedere cosa succede quando non viene dato l'isolante sul cartongesso o anche sul gesso. Succede questo che a lungo andare nel pitturare si sfoglia tutto Nella vita ci sono i furbi come i bianchini capaci tutti a dar due mani d'acqua e pittura lunga e pitturare. Dopo quando arriva qualcuno che dà fastidio a vedere queste cose, succede questo, piano piano si sfoglia. Il cartongesso è ancora nuovo e questo complesso avrà 6 o 7 anni tranquillamente, è stato pitturato due volte, oggi ci hanno chiamato per sistemare, vieni un attimo Gimbal. Ficcede questo, fa tutte queste bolle, andare solo a ripezzare qua e là non è giusto, uno per il cliente e due non si è molto professionali, allora perciò quando trovate il cartongesso isolante o tinta è isolante e si dà una mano, perché se non è solo così appoggiata la pittura, niente di più. Adesso noi andremo avanti a rasparre tutto, poi lo sistemiamo e vi faccio vedere le fasi, se vi succede questo. Metti in pausa. Ok? Abbiamo rasparto quello che veniva via, quello che vedete, guarda in alto il spazio. Il panofero che? Sì. Quello che vedete che è rimasto, perché c'è la rete sulle giunte del cartongesso, perché il pannello è due metri per un metro e venti. Perciò quello non viene via, lo lasciamo lì. Sul resto io ho preparato un po' di isolante e bianco, perché dopo io devo andare a rasare, portare via quei salti. Se davo solo l'isolante puro, dopo quando vado a rasare scivola via il gesso, perciò un po' di bianco con dentro l'isolante e poi andiamo a dargli una mano. Vedete che la tiro un attimo. Ok? Vi dico sempre, fate, se avete il gesso puro, avete il cartongesso che non è neanche stato pitturato, mettete lì dentro un po' di bianco e l'isolante. Almeno così, quando asciuga, si vede tutti i difetti, anche del gesso puro, si vedranno. E adesso non si vede, però faccio un buco. Lo vedete? Sul gesso puro, uguale. Vanno fatte un po' di bianco, l'isolante deve essere lunga, perché questi segni, adesso io vado a tirarli via. Quando li fate con, sul gesso, sul cartongesso si vedono. Dovete tirarla bene. E i segni dico, tiratela. Devono sparire tutti i segni, perché se voi lasciate queste, io le chiamo le cordate. E poi si vedono i segni da ruolo. Tiratela bene. Come si deve vedere la buccia del ruolo. Io continuo a ripasciarla. Almeno dopo non si vede niente, qualcosa ho messo in testa. E adesso darò tutto l'isolante. Poi rasiamo e poi diamole le due mani. Ci vediamo dopo. Ok, abbiamo dato l'isolante, col bianco dentro. Adesso andremo a stuccare tutte le imperfezioni. Specialmente ripasseremo tutte le fughe del cartongesso. Per tirare via il salto. Rasiamo, andiamo a tirare via il salto e iniziamo a dare la prima mano. Allora arriviamo per il caffè. Ok, abbiamo tirato via tutti i salti. Siamo andati a stuccare. Siamo andati perché siamo in due. Abbiamo sbussato tutto, tutte le giunte. Adesso appena asciuga, c'è una mezz'oretta. Si rifila e si dà la prima mano di bianco. Qui adesso lo metto più all'isolante. Basta. Adesso vado a fitturare normalmente, senza problemi. do la prima mano, do la seconda. Anzi, quando ho dato la prima mano, si guarda se c'è ancora qualche imperfezione. E poi si dà la seconda mano. Tutto qua, quello che succede quando trovate le bolle, ovvio che adesso ve lo faccio vedere che è meglio. Se il vostro soffitto trovate, vedete poi brutto, se trovate due bolle, come queste scurche, vedete che state stuccate, se nel soffitto vi viene via una bolla qui, una bolla lì, una bolla là, stuccate normalmente e poi pitturate. Non state lì a fare l'isolante. Se vi scoppia ancora, li sputate come ho fatto vedere nel video e lo sistemate. Ci vediamo dopo quando è finito tutto. Purtroppo non vi faccio i saluti da qui, da un altro posto, perché era festa, mi sono divertito con Ciro a mandarli dei filmati e ho cancellato la prima e la seconda mano del terrazzo. Ciro mi devi il video, io ti ho chiamato e ti ho detto che mi devi fare un pezzo di video, perché ho cancellato il pezzo del terrazzo. Niente, vi allegherò le foto del risultato finale. Comunque vanno, ci sono le bolle raspate. A noi è venuto via tutto il soffitto, abbiamo raspato tutto. Abbiamo dato l'isolante bianco con dentro l'isolante, che almeno ti permette di rasare, perché è isolante puro, poi scivola. E poi abbiamo dato la prima mano, abbiamo guardato se c'era ancora qualcosa da sistemare. e poi abbiamo dato la seconda mano. Niente, arrivati a questo punto, io vi saluto, vi allegherò le foto. Come sempre vi lascio la mia email, donnyedoardo37.com Grazie a tutti, al prossimo video! Grazie a tutti!